Un ciliverghe a due facce, quello visto contro lo scansorosciate e gialloblu subiscono due gol di Bosis e poi dominano trovando il 2-1 con Triglia, ma non riescono ad agguantare il pari nonostante l'assedio verso la porta di Pelati. La partita si apre con la doccia gelata per il Cili, mano di Carminati e rigore trasformato da Bosis. Prima della doppietta del numero 9 c'è tempo per un super miracolo di Vigilati sul colpo di testa di Gueye. Al 28esimo arriva il 2-0, colpo di testa sul secondo palo di Bosis che supera l'estremo difensore gialloblu. Da questo momento in poi la partita dei ragazzi di Quartuccio inizia, prima Nolaschi calcia centrale verso Pelati, poi l'1 ospite esce male su Triglia e procura il rigore che sempre l'11 trasforma per il 2-1. La prima frazione termina con la chance più grande della partita, Cristini colpisce il palo dopo una deviazione della difesa. Nella ripresa inizia la sede della Ciliverghe verso l'area ospite, ma i gialloblu non riescono mai a concludere. Nelle uniche due occasioni i tiri prima di Danesi e poi di Cristini terminano entrambi troppo alti per impenserire Pelati. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità e consegna i tre punti allo scanzo allo sciate con il Ciliverghe che tornerà in campo mercoledì per la sfida in Coppa Italia contro le Calvairate a Casa Cile alle ore 20 e 30.